Allora, l'Ambrelletto Aus Grecia, Aus Atene. Siamo qui ad Atene, c'è questa saletta tranquilla qui, quindi vi faccio questo video da qua. Allora, questo qui è un video, potevo fare anche un video sfogo, un video anche un po' arrabbiato, visto che mi dovrei togliere qualche sassolino dalla scarpa, più di un sassolino dalla scarpa. E quello che io non riesco a capire è perché molte persone non hanno l'onestà intellettuale di fare dei video e presentarsi e dire ragazzi non ci capisco niente, ragazzi ho sbagliato, ragazzi non capisco nulla, vi chiedo scusa. Anche perché alcune persone, ascoltando certi che parlano di alcuni argomenti, certi guru, potrebbero anche prenderli sul serio e magari perderci anche dei soldi. Magari qualcuno ha ascoltato questi fuffa guru e ha detto vabbè ma ascoltiamoli, ma questi dicono che adesso il prezzo del gas continuerà ad aumentare, e che non è finita, che è di qua e magari questi ci hanno messo dei soldi giocandoci long e hanno preso una bella troncata. Così come è successa la troncata per le azioni come Tesla, come Amazon, come Bitcoin e compagnia varia. Allora, il prezzo del gas è crollato l'altro giorno del 10%, oggi perdeva l'11%, il natural gas praticamente è arrivato a 3,70%. Siamo a prezzi del 2021, da 10 dollari siamo tornati praticamente a due anni fa. E così anche il gas europeo, la borsa di Amsterdam, e quindi che cosa è successo? È successo che due mesi fa vi ho detto ragazzi guardate che il peggio è passato per quanto riguarda il discorso delle materie prime, per quanto riguarda il discorso del prezzo del gas, e così è stato, e così è stato. Così come vi ho detto che comunque sarebbe comunque sceso il prezzo del petrolio, eccetera, eccetera. Poi, che andare a fare benzina sia aumentata dal primo di gennaio, non c'entra niente la materia prima, sono solamente tasse, perché se noi andiamo a vedere, se noi andiamo a vedere quando stava a 150 dollari il prezzo del petrolio, la benzina veniva a 1,30 euro. Oggi che il prezzo del petrolio è a 75 dollari, qualcosa del genere, quindi la metà, siamo a 1,8, quindi siamo a 50 centesimi in più rispetto a quello che era quando il prezzo del petrolio era il doppio. Quindi capite come le accise siano la parte maggioritaria del prezzo della benzina. Poi ogni volta arrivano i vari politici che promettono di fare e disfare, voi ogni volta ci credete, ovviamente non mantengono mai nulla, così come dovranno togliere il bollo dell'auto, così come dovranno abolire la legge Fornero e anche quest'anno hanno toccato su altri due anni. E poi ovviamente non cala mai niente. Il discorso del gas, il discorso del prezzo del gas, anche lì c'è una fortissima componente speculativa da parte dei vari governi che comunque anche loro ci mettono le varie tasse. Però sicuramente il fatto che comunque la materia prima, la materia prima è crollata e che comunque non, ormai siamo a gennaio, avete visto che non c'entra assolutamente nulla il discorso del freddo. In America abbiamo avuto l'inverno più freddo forse degli ultimi 50 anni e il natural gas l'altro giorno ha fatto meno 10, oggi ha fatto ancora meno 11, siamo tornati a 3,7, più o meno il prezzo del 2021. Mediamente negli ultimi anni il range del prezzo del gas in America è stato attorno ai 3,3,50, 3,70, ha avuto punti di 4,5 una volta arrivato a 5. Comunque a 3,7 siamo più o meno nella media, quindi da 10 siamo passati a 3,7, abbiamo perso quasi 70%. Lo stesso avvenuto per il gas sulla borsa di Amsterdam. Quindi è vero che i contratti magari sono vecchi e magari ci sarà ancora qualche situazione un pochettino da soffrire nelle prossime bollette, ma in realtà tutto questo è il problema. Ma come io vi avevo detto, come vi avevo detto che il peggio era passato, anche questa volta l'ho azzeccato, perché i prezzi e le materie piene stanno crollando, stanno crollando il gas, stanno crollando il cotone, il caffè, molte materie prime, anche il rame, anche il palladio è sceso, stanno tutte scendendo. Sta tenendo ovviamente l'oro che è salito, perché l'oro non è una materia prima, è un bene rifugio, ok? E quindi quando ci sono delle situazioni, specie di recessione, l'oro tiene. Quindi, come vi avevo fatto un video dove vi avevo detto che il peggio era le spalle per quanto riguarda il discorso delle materie prime e dell'inflazione, perché l'inflazione sarà destinata a rientrare, tanto è vero che alcune borse l'hanno presa anche bene questa cosa, tipo le borse europee. Adesso bisognerà vedere però il discorso delle borse. Se sarà predominante il discorso, diciamo, calo dell'inflazione, quindi i titoli ritornano a risalire, oppure il fatto che andiamo in recessione. Quindi vi ho detto due cose, e ve l'ho detta parlando anche in italiano, perché molte volte sento dire, ma l'Ambrenetto, tu hai detto che comunque il peggio era finito, oppure hai detto che non è finito. Io ho detto che il peggio non è finito dal punto di vista economico, nel senso che ci aspettiamo che molte economie andranno in recessione, quindi con un prodotto interno all'ondo negativo. Studiate, aprite dei libri. Ho detto che il peggio è passato per quanto riguarda il discorso delle materie prime, dei prezzi, delle bollette, del caro vita, eccetera, eccetera. Sono stato il primo due anni fa a dirvi che ci sarebbe stata una iperinflazione, ok, e così è stato, e vi ho detto due o tre mesi fa che il culmine era stato toccato per quanto riguarda il culmine delle materie prime, dei prezzi delle materie prime, del gas, eccetera, eccetera, e che ci sarebbe stata una forte discesa, e quindi il peggio era passato, vi ho detto due o tre mesi fa, vi ho detto questo, e oggi si è avverato. E nonostante ci sia stato più di una persona, che ci raccontavano che in realtà non era così, che il peggio sarebbe dovuto arrivare, che le materie prime non sarebbero scese, eccetera, eccetera. Io invece vi ho detto che sarebbero salite due anni fa e adesso sarebbero scese, e le ho azzeccate tutte, così come ho azzeccato che i bitcoin avrebbero perso l'80%, così come vi ho azzeccato il fatto che comunque molte azioni sarebbero scoppiate, perché erano completamente in bolla, penso a Tesla, penso a Amazon, penso a Nvidia, penso a Neo, penso a Intel, penso a tantissime altre, e così è stato, così come ci sarà adesso un calo di Apple, perché è destinato a scendere, così come ci sarà un calo del Dow Jones, perché comunque molte, diciamo, big che l'hanno tenute su, sono destinate, perché ci sarà una recessione, avere degli utili minori, bisognerà vedere se poi gli utili saranno predominanti per quanto riguarda il discorso borsistico, io penso che è 50-50 oggi, perché solo quattro volte è successo nella storia economica che la borsa americana, che è il faro comunque dell'economia, abbia fatto due anni in fila di recessione, secondo me c'è un 50-50, però il peggio è passato, quindi il gas è crollato oggi, è crollato nuovo, abbiamo perso più del 70%, in questa settimana abbiamo perso un ulteriore 20-25%, come io avevo detto, a differenza di molti altri, che dicevano che no, sarebbe arrivato l'inverno, sarebbe aumentato, che non è finito, sarebbe risalito, eccetera, eccetera, che il peggio doveva arrivare da questo punto di vista, più di una persona hanno fatto questo. Da dove nasce tutto questo? Nasce dal fatto che purtroppo sul web, in televisione, in radio, oggi ognuno può raccontare le sue proprie fesserie, io mi metto qua, posso raccontare, avete visto sul web quanti fuffaguru che ci sono, che si fanno pagare per raccontarvi un mare di banalità, nel senso che addirittura adesso vi raccontano come cuccare le donne, c'è gente che magari avrà cuccato nella sua vita praticamente il nulla, gente che si fa pagare per raccontarvi che per stare bene devi vivere bene, mangiare bene, cioè la cosa allucinante sono, che poi fanno bene, per l'amore di Dio, io non ho niente contro questi qua, se vivono e trovano chi li pagano, beati loro, io dovrei pagarmi per questi, come si vive, per lo stile di vita, come dovrei farmi pagare dei corsi, dovrei farmi pagare, con l'esperienza che c'ho io, dovrei farmi pagare mille euro a volta per dirti, mentre io vi dico queste cose, ve le dico tranquillamente senza nessun problema, non ho bisogno di fare dei corsi, niente, però quello che a me mi viene da ridere, mi viene da ridere, è io non ho nulla contro nessuno, ripeto, ognuno può fare quello che vuole, però quando si parla del discorso economico, si parla del discorso economico, bisogna aver studiato, cioè non è che perché uno legge due cazzatini in internet, o due libricini, allora può essere un esperto di tutto, io non ne capisco niente di arte, vi ho fatto vedere Atene, non è che mi sono stato lì a, so che comunque quella è l'acropoli, so che comunque è il partenone, ma non sono stato lì a dirvi, no, ma perché lo stile di qua, non sono sgarbi, non sono un esperto di arte, moltissimi argomenti, io non li tocco, non sono un esperto di sud-est asiatico, non sono esperto di tante cose, mi reputo un grande esperto e conoscitore del mondo dell'est, mi reputo esperto per quanto riguarda il Pisdias, mi reputo esperto per tante cose, ho fatto anni di studio di robotica, di automation technology e di economia, sono due cose differenti, però per anno ho studiato, perché a me piace molto essere eclettico, quindi io vi parlo di quello che conosco bene, non mi metto a parlarvi di cose che non conosco e non capisco perché è pieno di gente anche sul web che si mette a parlare di cose che non ne sa nulla, facendo poi delle figure da cioccolataio, perché era palese, era facile da prevedere se uno ha studiato un po' di economia e da anni segue queste cose e quindi che ha passato la famosa crisi della dot.com nel 2001, poter prevedere queste cose, ma se uno queste cose non le ha studiate, non le conosce, è chiaro che poi fa le figure del cioccolataio ed è per quello che io dico che sarebbe cosa buona che molte persone avessero l'onestà intellettuale di presentarsi e dire ragazzi, scusate ho sbagliato, non ci capisco niente, ho cannato completamente le previsioni, scusatemi e magari in futuro parla di come si sbuccia una banana, di come ci si fa a infilare un paio di scarpe, ma non parli di economia, non parli di queste situazioni economiche semplicemente perché non ne capiscono niente. Poi la gente mi dirà, ma tu come hai fatto ad azzeccarla che scoppiava la bolla, ma tu l'hambretto come hai fatto ad azzeccarla dell'iperinflazione due anni fa quando nessuno ne parlava e tu continui a dire arriverà un'iperinflazione, ma tu come hai fatto a capire cinque anni fa che in America sarebbe arrivata una spianata devastante nel 2020, un cigno nero e quasi una guerra civile, l'hambretto tu come hai fatto tre mesi fa essere così sicuro che il peggio è passato, che il gas sarebbe crollato, come facevo? Ho studiato, ho studiato, ma non è che io vengo qui e mi voglio vantare, non mi vanto, ho semplicemente studiato anni, anni queste cose, anni, ok, così come ho studiato anni di automazione industriale, di robotica, compagnia varia che mi permette di poter progettare degli impianti molto complessi di automazione, così come ho studiato per anni economia sci commerciale, anche andando a Bucuresti facendo un anno di specializzazione, un anno, siccome l'ho studiato per anni e queste cose le conosco e le so molto bene, mi piace che alle persone che mi seguono spiegarvi alcune cose, dirvi un po' come va la situazione e come potete vedere nove volte su dieci la azzecco quasi sempre, mi dà fastidio purtroppo sentire molte persone che non ne capiscono niente di queste cose, non ne capiscono niente, ergersi a professori del nulla semplicemente perché hanno studiato, hanno studiato, scusate, 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 hanno letto due libricini, hanno letto due libricini, hanno letto due paroline, leggono e allora si presentano, e poi immaccabilmente non la azzeccano mai, 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 ok, così come continuano a sentire nel web un mare di boiate, un mare di boiate sugli investimenti, sulle azioni, continuo a sentire delle cose assurde di gente che di queste cose vi posso garantire non ne capisce niente e allora a questo punto, a questo punto io che ne capisco tanto, allora a questo punto dovrei io mettermi a dire, mi chiamate, faccio delle videoconferenze telefoniche, mi pagate 200-300 euro all'ora, mi metto e ve le spiego, dovrei fare io queste cose qui, farmi io pagare, perché se c'è gente addirittura che si fa pagare per raccontare bagianate è veramente assurdo, ok? E io queste cose ve le dico gratuitamente, ok? E quindi è assurdo vedere veramente gente che parla di cose che non capisce niente, niente, che non ha mai studiato di queste cose e si ergono, ma qui, e poi immaccabilmente fanno le varie figure dal cioccolataio. Concludo dicendo questo alle persone che mi seguono, ragazzi andare a lavorare si fa fatica, guadagnare soldi si fa fatica, perderli è facile, io ho visto gente che non ne capiva niente di certe cose, ha sentito due cosine e ha sputtanato un pacco di soldi di risparmi, di una vita, semplicemente per fare delle cose, semplicemente perché gli avevano detto, fatto di qua, di là, di su, di giù e compagnia varia. Quando io vi ho spiegato, vi ho fatto 8-10 lezioni di trading online, il trading online non è facile, ok? Però il trading online lasciatelo perdere, prima fatevi un po' di anni a capire come funziona il mercato azionario, borsisti e compagnia varia, poi dopo fra 10-15 anni magari iniziate proprio qua, però quando vi ho detto, vi ho spiegato le trendline, andate a vedere il corso di lavoro dove vi spiegavo le trendline, perché ero sicuro che il gas sarebbe sceso? Perché il gas poco tempo fa ha spaccato, e vi avevo fatto anche un video, la trendline da due anni, e quando tu la spacchi, quando tu la spacchi, la ritesti dal basso e poi ti fa la resistenza e scendi, ed è così che è stato, funziona così ragazzi, bisogna studiare le trendline. Allora, discorso, e con questo concludo un video abbastanza lungo, però vi faccio un regalo, vi faccio un regalo, oggi sono di luna buona, o magari ve lo faccio in un altro video, magari ve lo faccio in un altro video perché ormai sono già quasi 20 minuti, sono anche stanco. Chi vi racconta che investire in borsa siete sicuri di guadagnare nel lungo periodo? Vi sta raccontando un mare di fregnacce, perché non è assolutamente così, non è assolutamente così, non è assolutamente così. Ci sono degli indici che non hanno, non hanno recuperato neancora quello che erano una volta. Penso al MIT, l'italiano, che era 44 mila, siamo ancora a 24 mila, siamo a 20 mila sotto al massimo dei tempi del 2000. Sto parlando di un pacco di azioni che non hanno più visto alcune quotazioni, sto parlando di azioni che sono sparite, sto parlando anche dell'indice americano che quando è scoppiata la bolla, la bolla della dot.com ci ha messo 8-9 anni per tornare a quel livello lì, per dopo riscopiare nel 2008, per dopo ricrollare e metterci 15 anni per tornare a certi livelli. Quindi se si sbaglia il momento per entrare, se sbaglia il momento di entrata e se sei un parco buoi rischi veramente di farti male. Anche se tu apri delle posizioni mensilmente e sei all'inizio dello scoppio di una bolla. Penso al 2001, chi le ha aperte nel 2001 al massimo per tre anni è andato in perdita, per altri tre anni ci ha messo tre anni per andare quasi in pari, per poi dopo ricrollare ancora nel 2008 e quindi per venirsi per anni e anni il proprio investimento che ha fatto fatica per andare in pari ci ha voluto vent'anni, non funziona così in borsa. Non è che ogni volta che tu entri va bene perché è stato dimostrato che bisogna entrare al momento giusto ragazzi, bisogna entrare al momento giusto, bisogna entrare al momento giusto e quando l'Ambrenedetto continuava a dirvi state lontani da quel momento lì perché adesso sono dolori, la stessa cosa avviene per quanto riguarda il bitcoin. Quando stavo a 60 mila vi ho detto occhio che vi fate male, c'è gente che ha perso l'80%, c'è gente che ha comprato molto più alto, oggi si trova con un capitale decurtato e magari ti vengono a dire eh ma col tempo recupero, eh ma col tempo cosa? Che cosa ne sai tu? Cosa ne sai tu? Cosa ne sai tu che col tempo? Magari fra tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, da 16 mila passa a 8 mila e rimane lì per 10, 15 anni a 8 mila, quattromila, che ne sai tu? Nulla è certo in queste cose, nulla. Quelli che mi vengono a dire no ma il prossimo halving arriverà a 200 mila, magari, magari sì, magari no, ma queste cose non lo sai. Certo sicuramente molto più intelligente uno che ha comprato 15, 16 mila, 17 mila, 20 mila rispetto a uno che ha preso 60 mila, così come gli dicevo io, state molto attenti, dopo un meno tanta potete anche considerare di fare qualcosa. Non è nulla di sicuro ragazzi, nelle borse non è nulla di sicuro, potrebbe arrivare una situazione da qui ai prossimi anni di recessione forte e magari il discorso borsistico per 10 anni, 10 anni, 15 anni non avete guadagnato assolutamente nulla, anzi se siete entrati ai massimi rischiate anche di perderci e magari se andavate a prendere qualcosa a livello magari del 3-4% fisso anno, visto che l'inflazione è salita, magari guadagnate di più. Cioè non è detto niente, non è detto nulla, non è detto nulla, non è detto perché Tesla oggi è a poco più di 100 dollari, tra 400, ha perso 65% che fra un anno risalga, non è detto che Meta risalga, non è detto che Amazon, perché quando c'è una fase di scoppio della bolla c'è sempre la fase, ricordatevelo, di disperazione e si potrebbe tornare anche da dove siamo iniziati. Quindi non è assolutamente, ed è neanche detto che domani poi riprenda. Quindi chi oggi dice, ah però compro Tesla perché è a 100, a 110, era a 400, potrebbe andare anche a 50, potrebbe andare anche a 30, potrebbe stare a 30 per i prossimi anni, potrebbe fare come Tiscali che non si è più ripresa vita, potrebbe fare come se a pagini gialli. Nulla è certo, ragazzi, una cosa è solamente certa purtroppo, la morte, ma in borsa nulla è certo. E con questo vi mando i saluti, ancora una volta l'ho azzeccata. Non è che io mi vanto, ripeto, non è che mi vanto, però siccome queste cose ci ho studiato nella vita, è difficile che mi sbagli su queste cose. Invece per quanto riguarda tutte le varie persone che si improvvisano, esperti, lasciate perdere ragazzi, parlate di quello che sapete, perché altrimenti fate solo delle figure da cioccolataio. E se fate le figure di cioccolataio avete almeno anche la decenza di dire, vabbè ragazzi, scusate, mi sono sbagliato, stavolta, stavolta, non l'ho azzeccata, non l'ho azzeccata, non ci capisco niente. Almeno abbiate il coraggio almeno di chiedere scusa nei confronti delle persone che vi seguono, perché ripeto, magari qualcuno vi ha anche ascoltato, visto che gli avete raccontato che sarebbe salito, magari qualcuno ci ha investito anche dei soldi andando longa e gli avete fatto perdere i soldi. E ragazzi, almeno chiedete scusa. Però personalmente vi do un consiglio, evitate di parlare di cose che non ne sapete, se non ne sapete non ne parlate, che è meglio, parlate di quello che sapete. Già ultimamente anche c'è gente che fanno gli esperti, non ne parlate, non ne sapete, cioè ragazzi, io non mi sono mai spruzzato, non vengo a spiegarvi come ci si spruzza per dirvi. Quindi evitate di parlare di cose che non sapete, non parlate di economia, non parlate di finanza, non parlate di borse, non parlate di materie prime, non parlate di investimenti mobiliari, non parlate di investimenti immobiliari, non parlate di investimenti azionali, non parlate di investimenti in bitcoin. Oggi la gente si è alzata, perché tira, sono tutti diventati, avete visto? Cioè, gente che fino a ieri giocava a biglie, oggi sono esperti di bitcoin, sono esperti di borsa, sono esperti, cioè, ma è veramente, è assurdo, è assurdo, assurdo, è veramente assurdo, è veramente un mondo assurdo.